La lotta non è un nome a caso. Ha un significato ben preciso. Dalot è la prima città universitaria dell'India. È la prima città nella quale in India si è cominciato a parlare di cultura e di emancipazione. Dalot è questo che vuole essere, un luogo di emancipazione. Dalot vuole essere un luogo in cui chi si sente escluso possa ritornare a sentirsi parte di questa società. Noi siamo del parere che ci può essere inclusione sociale solo se c'è indipendenza. Ci può essere indipendenza solo se c'è libertà. E ci può essere libertà solo se c'è consapevolezza delle proprie capacità. Per cui Dalot diventa il luogo in cui ogni persona può dire che è capace di fare qualcosa. Un piccolo laboratorio di cucito, due postazioni di maglieria, un corso di ricamo, un corso di uncinetto. Bastano quelle. Non sono solo questi. Sono l'inizio. Una macchina da cucire, un vicino che ha bisogno di un orlo ai pantaloni e nessuna donna dovrà essere costretta a prostituirsi. Grazie.